schiacciare la leva e mettere il piedino della cerniera tutto a destra, quindi posizionarlo nell'incastro, abbassare e la macchina è pronta per cucire quindi fare attenzione alla cucitura, quindi l'orlo deve combaciare alla cucitura posizionare e cucire esattamente di fianco al bordo senza tirare né un tessuto né l'altro quindi mentre cucite fare in modo di stare proprio in riva in riva al bordo vedete l'ago batte proprio intorno al bordo grazie